Benvenuti alla resegna stampa del mattino, occhio ai giornali come sempre ci ritroviamo al mattino puntuale alle 7 in diretta per dare un'occhiata ai giornali, questa mattina poche pagine ma comunque le abbiamo preparate, selezionate, tra poco le vedremo prima andiamo però a vedere il tempo, anzi prima ancora il santo, poi il tempo, il santo di oggi è San Benedetto Martire ma ricordiamo come 13 ottobre, anche tornando un po' indietro nel tempo, 1917, la sesta e ultima apparizione, anzi il famoso miracolo del sole a Fatima qualcuno conoscerà sicuramente la storia, il sole sorgerà alle 7 e 20 e tramonterà alle 18 e 29 adesso andiamo a vedere il tempo perché ci sono delle novità le novità sono queste, in realtà la giornata comincerà tranquilla, serena, perlomeno qui sulla parte settentrionale della regione nella provincia di Piazza Urbino, poi a un certo punto intorno alle 1 oggi, alle 13, arriveranno i temporali, arriveranno, saranno anche caratteri di rovescio questi temporali che poi si estenderanno su tutto il resto della regione, fenomeni che si attenueranno nel corso del pomeriggio a partire da nord, quindi sempre dal pesarese poi via via nel corso della giornata, le nevicate al di sopra dei 1600-1700 metri domani invece torna il sole, giovedì, vedete sole su tutta la regione con qualche nuvolosità variabile, insomma nell'entroterra ma comunque questo è un po' il quadro tra giovedì e venerdì, tempo stabile anche nel fine settimana con temperature in graduale ripresa Allora, titoli delle prime pagine del Corriere Adriatico, il resto del Carlino, edizioni di Pesaro e Urbino Cominciamo dal Corriere Adriatico, l'apertura è per i soldi che devono arrivare dall'Europa Allora, nel capitolo Costruzioni per noi nel PNRR è previsto 1 miliardo e 405 milioni mentre quasi il doppio della cifra per gli abruzzesi Solita storia, titola il Corriere, declassati dall'Unione Europea a regione in transizione le Marche Castelli dice paradossale, fondi divisi prima della retrocessione Poi la questione del Green Pass, mancano ormai pochi giorni Venerdì scatta il diktat, allarme per i tamponi, industriali e sindacati temono l'intasamento Poi, basta burocrazia, sempre di spalla qui dal Corriere Si parla di abuso d'ufficio, il reato di abuso d'ufficio che secondo alcuni politici adesso va abrogato Una norma definita irragionevole Sono queste le parole del Presidente della provincia di Macerata, Pettinari che si allinea dunque alla posizione della Sindaca di Ancona, Mancinelli Non di abrogazione invece, ma di ricerca di un equilibrio parla Bacci, Sindaco di Iesi Per l'Avvocato invece Massimiliano Belli serve aspettare gli effetti della riforma Vediamo invece le notizie in breve Allora, due discariche chiuse La regione contraria alla previsione dell'ATA A Marotta, prestito al barista con interesse al 210% In quattro finiscono nei guai per usura A Terre Roveresche invece, sempre nel Pesarese Scuolabus tamponato, feriti quattro alunni Una ragazzina di 12 anni è finita al Salesi di Ancona Poi l'economia, anzi l'industria L'ABS che compra Forvet, contratto da 41 milioni di euro L'azienda si consolida nella lavorazione del vetro L'amministratore Selci parla di operazione strategica Efficienza manifatturiera, ricerca scientifica Il mix esalta la rotta industriale delle marche L'ABS Group ha acquisito il 100% di Forvet Azienda di Torino che fabbrica macchine speciali automatizzate Per forgiare il vetro, sottoscritto ieri il contratto Da circa 41 milioni di euro E poi si parla anche della Fano Urbino La vecchia tratta ferroviaria, lo vedremo anche tra poco Si studia il ritorno dei passeggeri Il Carlino di Pesaro invece La fotonotizia è per l'incidente che si è verificato a Terre Roveresche Un furgone che ha tamponato uno scuolabus Proprio mentre i ragazzini stavano scendendo Per far rientro nelle loro abitazioni Terre Roveresche il titolo scolari all'ospedale Camion tampona scuolabus paura e 4 feriti Poi il Green Pass Migliaia resteranno senza tamponi L'allarme di tutti e tre i sindacati per la scadenza del 15 La regione si muova, servono nuovi hub E poi la carenza di camici bianchi Finisce in emergenza anche il 118 In tutta la provincia, quella di Pesaro ovviamente Mancano 13 medici Le altre notizie in breve Dalla prima, l'ex terzino della Vispesero La squadra di calcio ha 72 anni in campo Per fare un gol alla vecchiaia E il record di Glauco Dolino Poi anche qui la strategia del gruppo peserese BS Che si allarga per 41 milioni Acquistata la Forvet di Torino E poi sul nuovo corso per gli infermieri C'è anche questa nuova sede Infermieristica al Giro di Boe E poi sotto invece lo sport Con Albenelli, ecco il Cesena Sabato alle 14 c'è la gara di cartello È la seconda della classe E poi il basket La VL crescerà lungo la stagione Nel convinto del monte Ex coach che lancia e fa il suo pronostico E allora, dicevamo pochissime pagine Quindi saremmo veloci Ma insomma, questa mattina ho selezionato Una pagina nazionale Che è questa Di Alessandro Farruggia L'articolo Che è un po' Un argomento che ogni tanto tirano fuori Soprattutto per far sentire in colpa Coloro che non hanno deciso ancora di vaccinarsi Parliamo di 8 milioni e passa di persone Di italiani I Novax ci costano 250 milioni Questo è il titolo Piccole aziende, allarme organici Lo Stato ha stanziato 45 milioni Per calmerare i tamponi Pesa sulle casse e anche la gestione Dell'ordine pubblico Quindi, come dire, tutta colpa Dei no pass o no vax Tra forze di polizia, vigili del fuoco E nel settore dei trasporti I no pass sono molti E io direi che, insomma, questa A parte che, voglio dire, articoli come questi Fanno sorridere per non dire peggio Perché sono meschini Nel senso che i Novax o no pass Insomma, queste 8 milioni di persone Pagano le tasse come tutti gli altri Quindi non si capisce perché Anzi, proprio pagando le tasse Con sta storia del Green Pass Devono avere tutte queste limitazioni Ma al di là di questo Allora io mi attendo domani Per esempio di conoscere anche Quanto ci costano Tutti quelli che finiscono in ospedale O sotto cura Perché fumano Dalla mattina alla sera Oppure tutti quelli che mangiano Oppure hanno uno stile di vita Completamente sballato Seguendo i canoni della televisione Tanto per fare un esempio E che magari appunto Soffrono di obesità O di altre malattie Quanto ci costano Ecco, allora Questi sono articoli Che lasciano il tempo che trovano Però Questo è E io vi riporto Tanto per farvi capire Insomma Che aria tira Ma ormai tanto siamo divisi Su questo E non c'è speranza Di ricompattare nulla Ma detto questo Andiamo a vedere Il Laval Metauro Scuolabus tamponato Da un autocarro Feriti i quattro alunni Dodicenne portata al Salesi L'incidente al ritorno Dall'Istituto Pomodoro La ragazzina stava scendendo Soccorsa Dall'eliambulanza Il sindaco invece Di Terre Roveresche Si è subito affrettato A dire che Non si è fatto male nessuno In maniera grave Anche la ragazzina Che poi è stata portata Al Salesi di Ancona Insomma Poi è risultata essere Non grave Quindi questo Meno male Insomma È una buona notizia È una bella notizia Ora invece L'altra notizia Sempre di taglio basso Su questa pagina Che è quella Della Valle del Metauro Ripulite dai volontari Le strade di Sorbolongo Trovate molti rifiuti Anche la carcassa Che aveva rischiato la vita Ingerendo ovuli di cocaina È stato condannato a tre anni Ma appena uscirà dal carcere Avrà il lavoro Chi glielo darà questo lavoro? Ebbene Intanto questo ragazzo Ha 35 anni Che pensate Per 50 euro Per 50 euro Aveva ingerito Questi 22 ovuli Di eroina Rischiando la vita Di brutto Del peso di 10 grammi Quasi 11 grammi Ciascuno E aveva accettato Di fare il corriere E quindi di ingoiare Questi Questi ovuli Questi involucri In cambio di 50 euro È stato condannato Come abbiamo visto Però Il suo ex Dattore di lavoro Quando Ha saputo Di questa Di questa storia Si è offerto Si sono offerti Di ospitarlo a casa E di riprenderlo A lavorare Non appena Uscirà Dal carcere Questa è la notizia Con tutti i dettagli Scritta da Elisabetta Rossi L'altra notizia Invece interessante Questa mattina È Sulla pagina di Fano Ex ferrovia Ha concluso Lo studio di RFI Reti ferrovie italiane Dunque Possibile Riattivazione Nel 2029 Anna Marchetti Nel suo articolo Spiega un po' Quali potrebbero essere Le prossime mosse Visto che c'è stato Questo incontro Tra la sottosegretaria Rossella Cotto Del Movimento 5 Stelle E l'amministratore Delegato della società Ora L'intenzione È di ripristinare Una linea commerciale Per 5200 passeggeri Al giorno Ecco le ipotesi Intanto Parliamo di Un'operazione Che Così Pare Costi All'incirca 80 milioni Di euro Per Lo studio Di fattibilità È stato sborsato Un milione Di euro E Adesso Ci sono appunto Delle ipotesi La prima Prevede che il treno Torni a correre Ogni ora Per 16 volte al giorno Portando un totale Di 5200 persone Nell'arco di una giornata Qui sorrido Perché Non lo so Non so i motivi Per i quali È stata chiusa Questa tratta Qualcuno mi diceva Perché non c'era nessuno Ma All'ilà di questo Portare 5200 persone Al giorno Io vedo una cosa Molto Improbabile Ma comunque Nell'arco di una giornata Pari al 90% Della capacità totale Nel secondo scenario Invece Che è stato preso In considerazione Probabilmente Da questo studio Di fattibilità Il convoglio Transiterebbe Una volta Ogni mezz'ora Non una volta Ogni ora Ma una volta Ogni mezz'ora Rispetto alla prima ipotesi Quindi il numero di corse Sarebbe di 32 Al giorno Senza però aumentare Il numero dei passeggeri Quindi anche se aumenterebbero Le corse Del doppio Il numero dei passeggeri Dovrebbe essere sempre 5200 persone al giorno Non credo che ci sarà La ressa Ma comunque Questo è un po' Lo scenario Tutto però Non prima del 2029 Ma tutti i dettagli Insomma sono su questo articolo Interessante Che c'è questa mattina Sul giornale Poi Andiamo a Trecastelli Invece Vicino Senigallia In provincia di Ancona Dunque Furti senza tregua Rubati due orologi Uno era un Rolex Buttino da 7000 euro Nuovo ride a Trecastelli Dove i malviventi Sono entrati In una casa di campagna Forzando una finestra E questa è la cronaca Di Senigallia Potrebbe essere La stessa banda Che ha colpito Anche a Monterado Le indagini Sono affidate Ai carabinieri Affidate ai carabinieri Allora Noi ci fermiamo qui Ci salutiamo Ci diamo appuntamento Questa sera Alle 20.30 Con il telegiornale Occhio alla notizia Come sempre Se avete le segnalazioni Da fare Il numero Lo vedete In sovraimpressione 338 49 68 250 Grazie per averci seguito Buona giornata a tutti 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 Buona giornata a tutti